14 arresti alla mezzia terme nell'ambito dell'operazione Andromeda 2 da parte della Polizia di Stato di Catanzaro e dello SCO nei confronti di presunti esponenti di spicco delle cosche d'Indrangheta Iannazzo e Canizzaro da Ponte. Dalle indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro sono emerse responsabilità in relazione a numerosi episodi estorsivi e i danni di imprenditori. Le persone coinvolte erano state tutte condannate nei giorni scorsi in sede di giudizio abbreviato appena significative perché ritenute responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione e traffico d'armi nell'ambito dell'operazione Andromeda. Le attività investigative sono state coordinate dal procuratore aggiunto della DDA Giovanni Bombardieri e del PM Elio Romano con la supervisione del procuratore Nicola Gratteri. È stato inoltre accertato l'accordo formalizzato attraverso veri e propri summit mafiosi tra le cosche Iannazzo e Giampa per la spartizione dei proventi del racket secondo un collaudato sistema operativo. Con questi ultimi arresti vengono ribadite le contestazioni che riguardano anche omicidi accaduti nell'ambito della guerra di mafia alla Mezzia. In particolare l'assassinio di Antonio Torcasio nel maggio del 2003 che suscitò particolare clamore in quanto compiuto nelle adiacenze del commissariato di polizia di La Mezzia Terme nel momento in cui la vittima si accingeva ad adempiere all'obbligo di firma. Significativo anche l'omicidio di Vincenzo Torcasio eseguito nel luglio del 2003 a Falerna sulla costa tirrenica davanti ad una paninoteca in presenza di numerosi avventori del locale. In quest'ultima occasione fu ferita un'altra persona Vincenzo Curcio. Entrambi gli omicidi secondo quanto emerso dalle indagini alle quali hanno contribuito con le loro dichiarazioni anche alcuni pentiti si inserivano in una strategia criminale da parte delle cosche Iannazzo e Cannizzaro da Ponte finalizzata a mantenere il loro esclusivo controllo delle attività illecite in gran parte del comprensorio di La Mezzia anche attraverso l'eliminazione fisica degli esponenti di spicco della cosca avversa Cerra Torcasio-Gualtieri anch'essa attiva soprattutto nel campo delle estorsioni. Le 14 persone destinatari dei provvedimenti odierni sono Francesco Mascaro, Alfredo Gagliardi, Francesco Iannazzo, Francesco Pontieri, Emanuele Iannazzo, Santo Iannazzo, Antonino Cannizzaro, Domenico Cannizzaro, Gregorio Scalise, Pasquale Lupia, Claudio Scardamaglia, Saverio De Martino, Vincenzo Torcasio ed Antonio Provenzano.